...è l'ora di arrivare, naturalmente, cioè voglio dire, guardami, senti, io amo le donne, sono bellissime, maestose, misteriose, fantasmagoriche creature, sveglie, piene di risorse, molto superiori al maschio in ogni campo, e se potessi scegliere preferirei le donne fino all'ultimo giorno, ma mi piace il cazzo, quindi sono rigorosamente frocio, quindi è sempre...